Sgominata banda di trafficanti di cocaina con base a Marotta Furti in quattro ristoranti denunciato un fanese Casi di multe a Roma recapitate per errore a Pesaresi Il centro di Pesaro scommette sul rilancio di via Castelfitardo Pesaro città della musica lancia il pop festival Buonasera a tutti voi che state guardando Rossini TV Ben ritrovati al nostro telegiornale Oggi è giovedì 2 febbraio e apriamo questa edizione Parlando di una maxi operazione dei carabinieri E' stata infatti sgominata una banda di trafficanti di cocaina Che aveva scelto Marotta come centro di smistamento Di grosse quantità di stupefacente verso tutte le province confinanti Erano residenti a Benevento, Milano, Perugia e Ancona Ma avevano scelto Marotta come centro operativo della loro strutturata Attività di traffico di cocaina che si dipanava nelle piazze di spaccio Anche delle limitrofe province di Ancona, Perugia e Rimini Così quattro indagati sono finiti in manette ieri Attraverso una operazione del nucleo investigativo Dei carabinieri di Pesaro Orbino Dando esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Emessa dal GIP del Tribunale di Pesaro L'indagine avviata in primavera ha consentito di documentare L'elevata operatività su Marotta di questo gruppo di soggetti In gran parte pregiudicati In grado di immettere grandi quantità di cocaina nel pesarese E nelle province confinanti L'operazione denominata Mare d'Inverno Ha fatto luce su ruoli e modalità operative di ogni singolo indagato Ed è emerso che la cocaina veniva tenuta in deposito All'interno di un agriturismo in provincia di Perugia Che era nella disponibilità di alcuni degli indagati Qui veniva frazionata in quantitativi variabili fra 1 e 5 etti E trasportata attraverso auto non riconducibile a nessuno degli interessati Nel ristorante di un campeggio estivo di Marotta Anche questo gestito da due degli indagati Proprio qui aveva luogo lo smistamento della droga In favore degli acquirenti Che a loro volta provvedevano a tagliarla in singole dosi Destinate ad ulteriori cessioni al dettaglio Nessuno degli indagati aveva un reale interesse Alla stabile permanenza su Marotta Ma avevano scelto la località estranea alle loro dimore Per farne un vero e proprio centro operativo Per lo spaccio sul territorio Su Marotta le indagini hanno dimostrato Che l'attività di spaccio al dettaglio Era pannaggio di due degli arrestati che si avvalevano di altri soggetti Si è accertato che la droga veniva abilmente nascosta In anfratti di vari condomini Non riconducibile agli indagati Come ad esempio all'interno dei tubi Degli impianti di condizionamento O dentro le canne fumarie Pronte per essere prelevate e cedute a terzi Addirittura si è scoperto Che gli indagati per occultare le dosi di cocaina Utilizzavano scatolette metalliche Grosse come un pacchetto di sigarette Alle quali erano applicati magneti Così da poter essere attaccate sotto le auto in sosta Dentro le porte scorrevoli di ascensori O ai lampioni pubblici Complessivamente sono state deferite All'autorità giudiziaria 12 persone Oltre ai 4 in carcere Altri 8 sono indagati in stato di libertà E sono stati documentati Più di 30 episodi di spaccio Per un quantitativo accertato Di oltre 9 kg di cocaina Dei quali 1,5 sequestrato Proprio questa notte 40 militari del comando di Pesaro Urbino Insieme al personale dei carabinieri di Senigaglia Monte Sarchio di Benevento Milano Monforte e Gubbio E con l'ausilio dell'unità cinofile di Pesaro Hanno dato esecuzione del provvedimento restrittivo Effettuando numerose perquisizioni Durante le quali si sono sequestrati Contanti per 25.000 euro Cellulari e appunti di rendiconto di spaccio Nel corso di una perquisizione a Marotta Un altro uomo è stato trovato in possesso Di un chilo e mezzo di marijuana E 5 grammi di cocaina E quindi arrestato in flagranza di reato Diventando il tredicesimo indagato nell'inchiesta Sono stati trovati anche 25 grammi di cocaina Suddivisa in dosi Nascosti in diverse aree pubbliche di Marotta E continuiamo con la cronaca Perché i carabinieri di Monte Marciano In provincia di Ancona Hanno invece identificato Il responsabile di furti Avvenuti la scorsa settimana In quattro ristoranti di Marzocca E Marina di Monte Marciano Si tratta di un 36enne di Fano Che ha agito fra il 25 e il 27 gennaio Facendo effrazioni nei quattro locali E rubando complessivamente 1.500 euro in contanti Registrattori di cassa Un televisore Una carta di credito E un blocchetto per assegni L'uomo è stato denunciato per furto Danneggiamento E in debito Utilizzo di carte di credito Multe per infrazioni stradali A Roma Recapitate a ignari ed incolpevoli Pesaresi Un argomento che vi ho esposto Proprio questa mattina Durante la rassegna stampa Buongiorno Rossini E che in giornata ha suscitato Analoghe segnalazioni Di altri malcapitati pesaresi Vediamo il servizio Targhe annotate con errori Multe inviate alle persone sbagliate Malcapitati pesaresi Che si trovano costretti A pagare sanzioni Per non aver commesso nulla O ad arrampicarsi In complessi ricorsi legali E' successo ad un pesarese Al quale nel 2016 E' stata recapitata una multa da Roma Senza mai essere stato Nella capitale Nell'anno in questione Un caso esternato oggi Dal Corriere Adriatico E la cui esposizione Nell'odierna edizione Della nostra rassegna Buongiorno Rossini Ha procurato altre segnalazioni A Rossini TV Di pesaresi incappati Nello stesso spiacevole equivoco A me è successo nel 2000 All'anno del giubileo Mi arrivò la multa di 75.000 lire E ho fatto ricorso Tutto quanto Ma purtroppo A loro non interessa Dove fossi io Mi hanno Detto dove Mi interessava Dove era la macchina E quindi Anche se io Ho potuto dimostrare Ero in ospedale Tra l'altro E quindi Ho dovuto pagarla Anche perché Ho chiesto anche Ai digiti urbani di Pesaro Mi hanno consigliato Di pagarla Perché altrimenti Arriva Rimarò addoppiata Poi triplicata Come è successo A questo utente di Pesaro Quattro anni fa E ci arriva Nella cartella esattoriale E pensavo Fosse successo nel 2000 Per il giubileo Confusione a Roma Ma vedo che Continuano Nello stesso anno Furono indiversi I pesaresi Che fecero Rimostranze Agli enti preposti Siamo incontrati Quella volta Eravamo Parecchie persone Eravamo andati Mi ricordo Alla motorizzazione Così Secondo me La cosa più grave Era se venivamo Accusati Di aver preso sotto Una persona Di non esserci Fermati all'altra Ecco Questo mi ha Spaventato Ecco Decoro Del centro storico Di Pesaro Il comune Ha già messo In agenda Il trascurato Piazzale Primo maggio Come luogo Meritevole Di interventi E ora scommette Anche su un bando Per rilanciare Le attività Di via Castelfidardo Dopo i positivi Esperimenti Di rivitalizzazione Di via Cavour E via Passeri Il comune di Pesaro Scommette Su via Castelfidardo A novembre La storica Via Fra Corso E Piazzale Innocenti Si è giudicata La vittoria Di un bando regionale Per creare Un centro commerciale Naturale Si chiamerà Porta Sale E grazie a fondi Di circa 50.000 euro Pesaro si arricchisce Di un nuovo Centro commerciale Naturale Dopo quello Di via Passeri Nato nel 2021 Ora il progetto Vedrà protagonista Un'altra storica Strada del commercio Cittadino Appunto via Castelfidardo Qui gli esercenti Puntano ad un salto Di qualità Delle loro proposte Attraverso il coordinamento Con l'assessorato All'innovazione Il bando Sul centro commerciale Naturale Porta Sale Dove le attività Commerciali Si sono unite E hanno creato Un progetto Per riqualificare La via Per creare Degli eventi E per pubblicizzare Loro stessi Anche online Quindi con marketing Di impresa Abbiamo notato Che dove sono nati Questi centri commerciali Naturali Che quindi c'è sinergia Tra le attività commerciali Quelle vie Creando degli eventi Chiaramente Sono più Trafficate Cioè non so Le persone Sono più attratte Ad andare Verso Quelle vie E quindi Il lavoro Sicuramente Li è aumentato Non noto anche Che lavorano tanto Quelle vie Che hanno All'interno Della stessa Strada Tante attività Diverse Dall'artigianato Al commercio Ma soprattutto La qualità Sono quelle vie Che chiaramente Puntano Sulla qualità Del prodotto E quindi Per questo Voglio fargli complimenti Sono molto contenta Un altro obiettivo Raggiunto Per riqualificare Il centro storico Le tempistiche Adesso hanno presentato Tutta la documentazione Una volta presentata La documentazione Hanno fatto L'associazione Quindi so che Si sono incontrati Dal notaio Tutte le attività Noi del comune Abbiamo già Una progettazione Per sistemare La via Abbiamo parlato Di illuminazione Abbiamo parlato Di fioriere E loro poi Devono chiaramente Decidere Quello che Hanno inserito All'interno del progetto Quindi anche Il marketing D'impresa E anche Hanno puntato Molto sugli eventi Che verranno fatti In centro C'è la loro via Ma soprattutto Che puntano All'artigianato Perché quella via Nasce Come caratteristica Sul fatto che In passato C'erano tanti artigiani Luoghi da ravvivare Come via Castelfitardo E luoghi da Riesumare Da decenni Di abbandono Rientra in tal senso Il complesso Di Villa Marina A Pesaro Che in questo 2023 Cerca una soluzione Per essere Recuperato Definitivamente A Villa Marina Regna il silenzio Quello che in inverno Colpisce tutto Via Le Trieste Ma anche quello che In tutte le stagioni Si abbatte sulla struttura D'epoca fascista Da circa una trentina D'anni Teloni stracciati E in palcatura Arrugginite Uno degli scenari Più suggestivi Di Pesaro Quello del lungomare Rovinato da un edificio Spettrale Senz'anima Quell'anima che per decenni Popolava quei quattro Casermoni Quando le colonie Di allora Erano un punto D'attrazione Per le famiglie Che andavano in vacanza A Pesaro Ma dalla sua chiusura Il cancello serrato Non è stato più riaperto L'Inps Alcune aste Con esito negativo Hanno presentato Un progetto di recupero Basato sulla creazione Di appartamenti Per anziani agiati Supportato da una serie Di servizi Come ristorante Assistenze Piscina Un riutilizzo Della struttura Con finalità sociali Per un investimento Complessivo Di 16-17 milioni Di euro Dove ad essere recuperato Non sarà solo Il mega edificio Della colonia Ma anche l'area Sportiva adiacente Parte di quest'ultima È stata acquistata Circa due anni fa Dal comune di Pesaro Per un milione 300 mila euro Realizzando a lato monte Di Viale Trieste Un parcheggio gratuito Per la zona mare e porto Un'area che si sta Lentamente spogliando Dal deterioramento Che per anni L'ha vestita Anche di fronte Al recente recupero Di Pesaro Studi Sempre di proprietà Dell'Inps Che dallo scorso settembre Ha riaperto i cancelli Agli studenti Della Lighieri E ai corsi universitari Di Urbino e Ancona Progetti e strutture Che però vivono Sotto l'ombra Dell'inquietante E pericolante Complesso di Villa Marina Che in questi anni Però non si è risparmiata A ricevere Ordinaria manutenzione Tra la messa in sicurezza Ponteggi e teloni Da sostituire Ogni fine inverno I costi sono ammontati A più di 200 mila euro I tempi per un quanto mai Necessario recupero Ancora non si conoscono Mentre si conosce invece Il periodo in cui Pesaro sarà Capitale italiana Della cultura E se i prolungati rinvisti La questione Villa Marina Continueranno Non lasceranno Un immacolato ricordo A chi per quell'appuntamento Visiterà la città Fano ha bisogno Di nuovi spazi Cimiteriali E questo L'attacco Di una lettera Aperta al comune Da parte del gruppo Di Fratelli d'Italia Di Fano Che attraverso le immagini Che vi mostriamo Documenta lo stato Di abbandono E trascuratezza Del cimitero Di Ferreto Il Camposanto Nonostante sia stato Oggetto Di un intervento Di risistemazione Nel 2016 Si trova nuovamente Senza più loculi Disponibili Nuove collaborazioni Fra associazioni Di categoria E istituzioni Ieri i vertici Di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti Agnese Trufelli Angelo Serra Barbara Marcolini E Patrizia Caimi Hanno incontrato Il nuovo prefetto Emanuela Saveria Greco Per un primo Proficuo confronto Su percorsi E iniziative Dell'associazione Questa mattina Invece L'associazione Confesercenti Ritrovatasi Con la direzione Di Alessandro Ligurgo E il nuovo responsabile Sindacale Davide Ipaso Ha incontrato L'amministratore delegato Di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli Per istituire Un tavolo di lavoro Condiviso Sulle problematiche Urgenti Delle imprese Ha preso Il via Questa mattina D'Urbino La diciassettesima Edizione Di Università Aperta Nella gremita Aula Magna Dell'area Paolo Volponi Il rettore Giorgio Calcagnini E i professori Ivana Matteucci E Giovanni Alvarez Hanno illustrato A circa mille studenti Delle superiori La proposta Universitaria Di Urbino E i punti Di forza Dell'Ateneo Attraverso Un tour Del campus E la presentazione Dei vari corsi Gli incontri Di Università Aperta Si svolgeranno Anche nella giornata Di domani E sempre Agli studenti Delle scuole Superiori Sarà rivolto L'incontro Organizzato Dal Consorzio Di Bonifica Delle Marche Dal titolo Crisi Climatica E strategie Di adattamento Per un mondo Migliore L'appuntamento Si svolgerà Al cinema Loretto Mercoledì 8 febbraio Dalle ore 11 E relatore Della conferenza Sarà il geologo E climatologo Massimiliano Fazzini Ed ora Parliamo anche Di musica Continua la rassegna Playlist Organizzata Da Amat Che domani 3 febbraio Alle ore 21 Alla chiesa Dell'Annunziata Porterà in scena Nziria Progetto sperimentale Dell'artista Tuglia Benedicta Che riprende La tradizione Neomelodica Napoletana Per collocarla Su un terreno Inedito Attraverso sonorità Tecno Hardcore Continuiamo a parlare Di musica Che Pesaro Sperimenterà Anche in un luogo Fin qui Insolito Come il Teatro Dei Bottoni Di Wismara Che sabato Metterà in scena Il Pop Festival Il Pop Festival Presentato proprio Questa mattina In Comune Il Pop Festival È un festival Di musica indipendente E' un carattore Anche internazionale Avendo ospite Una band tedesca Con membri Dei Lali Pune Not Twist Che sono due band Molto importanti Dagli anni 90 Ad oggi Si svolge Al Teatro Dei Bottoni A Wismara E' sabato 4 Dalle 21.30 Le band che suonano L'headliner Sono i Saros Che sono questo gruppo Che fa Inditronica Con componenti Appunto Della Lali Pune Not Twist Che sono due band Molto più grosse Che hanno un po' Scritto la musica Inditronica Dagli anni 90 Ad oggi Poi abbiamo Una band locale Che sono i Fatsons Che anche loro Hanno dei dischi Alle spalle E DJ Minaccia Di Fano Che fa anche lui Musica elettronica E un ospite di Modena Che è Goodbye Horses Che ha già suonato A Pesaro più volte Per noi Con i nostri festival Abbiamo pensato Di rinvitarlo Il gruppo nasce Ufficialmente nel 2004 Con me, Mirko E Toto Comunque eravamo Tutti amici Che frequentavamo Il negozio di dischi Plastic E Abbiamo fatto Un sacco di cose In posti più strani Sempre comunque Privilegiando La musica Indipendente Quella che Non viene definita Mainstream E poi Come tutte le cose Belle un po' Va a finire Nelle sotterranee Finisce lì nel cassetto E l'abbiamo ritratta fuori L'anno scorso Dopo che Abbiamo pensato Di omaggiare Mirko e Guagno Due nostri amici Che abbiamo perso Per due motivi diversi Nel 2020 Abbiamo pensato Di omaggiarli Riformando Il pop gruppo Portando avanti Il loro lavoro Che era quello Di fare Concerti Live E quant'altro Insieme ai nostri Agli amici di sempre Quindi sono i ragazzi E concludiamo E concludiamo In casa In casa del Napoli Futsal Capolista Della Serie A Con un primato Costruito su 42 punti Frutto di 13 vittorie Tre pareggi E due sconfitte Italservice Che arriva in campagna Dopo il pareggio interno Con la L84 Torino Piuttosto irritante Non solo per essersi fatti Raggiungere Dopo il vantaggio Di De Oliveira Ma perché lo stesso De Oliveira È stato espulso Per un episodio Che ha fatto infuriare La società pesarese Ovvero Quando la squadra Di Colini Nel finale Attacca col portiere Di movimento Per provare a vincere Palla che termina fuori Nella zona Della panchina ospite Ed Oliveira Che intende Battere in fretta Viene ostacolato Dai componenti Della panchina torinese E in particolare Dall'allenatore Paniccia Fuori dall'area tecnica De Oliveira Per battere in fretta Scansa con un leggero tocco Il tecnico ospite E viene espulso Con secondo giallo Vane Le proteste pesaresi Il brasiliano Domenica dovrà saltare Il big match Di Aversa Napoli Con cui all'andata Little service Perse di misura 2-1 E che ora deve ritrovare Gravata dagli affagni Di una classifica Ai margini Della zona play-out Sarà una partita durissima Sappiamo la qualità Della rosa Del Napoli E noi Abbiamo Più della metà Delle squadre Acciaccata O infortunata Andiamo lì Per combattere Anche con Quei ragazzi Più Più giovani E Vediamo cosa Verrà fuori Ital service Che intanto Ha ufficializzato Il gioiellino Classe 2004 Finlandese Aro Pappanen Che rinforza La truppa di Colini E diventa anche Un'importante Scommessa in prospettiva Sarà invece Turno di riposo Per l'ital service Loreto Basket Reduce da una Dilagante Vittoria interna 97-48 Su Tolentino Che la mantiene Saldamente Al vertice Della classifica E allora davvero In bocca al lupo All'ital service Per questa importante Partita Noi continuiamo a parlare Di sport Questa sera Su Rossini TV Perché come tutti Giovedì Abbiamo insieme a Canestro Alle 21.20 Saremo in diretta Sul canale 80 In diretta Sulla nostra pagina Facebook Gli ospiti di questa sera Sono Michele Zavagnini Commentatore e opinionista E Marco Bedinotti Che è opinionista E questa sera Chiaramente si parlerà Anche e soprattutto Della prossima partita Che ci sarà domenica La Vitri Frigo Arena Alle ore 20 Partecipate Commentate in diretta Perché potrete Anche avere I biglietti gratis E poi L'appuntamento Con informazione Torna domani mattina Con la nostra Rassegna stampa Il venerdì È il turno Di Daniele Sacchi Che sarà in diretta Con voi Alle 7.20 Ed ora vediamo Se anche i prossimi giorni Ci sarà il bel tempo Con le nostre previsioni Punto Meteo Io vi auguro Buona serata